ciao a tutti ragazzi ben ritrovati con la settanta quattresima puntata da serie svissera allora siamo qui compagnia di france poi abbiamo enrico a tutti poi chi abbiamo marco 03 ciao a tutti chi è che suona qua in continuazione mostrina e chi c'è dopo vedi chi c'è c'è ci saluti e siamo a posto dunque ehi la e allora venduti venduti tutti grande belle bestie tanti quintali insomma luna si si molto proficuo questa vendita ottimo ottimo quanto quanto abbiamo fruttato e hai si c'è quanto hai venduto e quindi ho guadagnato 100 euro dai che scarsa 100 euro non mi sembra tanto proficuo non pago neanche il gasolio del classe qua per pulire la stalla con 100 euro ecco qua no 99.000 eh trattenuto della banca 1.000 euro mamma mia oh ma è una roba assurda ste banche veramente è sempre peggio peggio dei statali qua si si ma non ho più parole vabbè dai insomma 100.000 euro scarsi almeno abbiamo riguadagnato qualcosina si dai anche perchè sono cresciuti in fretta quindi si mangiano eh squadro che beh quello immagino proprio con questo macchinario qua gli da sempre giusti quantitativi e forti nemmeno e ottimizzato diciamo il cibo ottimizzato e quindi mangiano sempre un po' di tutto per avere il meglio diciamo delle energie per crescere e quindi mangiano sempre un po' di tutto per avere il meglio di e ingrassarsi si vede infatti la qualità buona ecco qua hai scritto big quality ecco lì infatti vedi senza sapere ho indovinato il tuo trucco va bene grazie bene intanto sentiamo alla prossima si che dopo ci saranno un po' di vacca da vendere da qua qualche giorno magari va bene mi richiami mangi un messaggio e io arrivo ottimo bene saluti saluti buona serata ciao ciao ora portiamo via questi 3.800 litri di letame di maiali così sta la pulita aspetta che chiudiamo se no si scampa dai chiudiamo questo lo lasciamo aperto da passaria dunque però ci stiamo procedendo con le semine siamo arrivati a metà qua del campo 4 e dopo di che i campi dovrebbero essere praticamente tutti a posto svuotiamo qua la menna e vediamo di dirigerci da steve per capire come siamo messi diciamo con i trattori con le cose perché insomma qua devono arrivare a a no vai ma che cavolo cosa c'è mostrina stavo facendo il video tiktok ma com'è ma il video tiktok tiktok video tiktok ma non sta inseminando il campo eh no dovevo fare il video tiktok sull'etame sull'etame eh certo perchè perchè dopo diventa un tiktok di merda vado via dai sto scherzando vedi qua vado via dunque qui abbiamo cosa sta facendo fare un po' di fieno c'è da arranginare imballare qua molto bene vabbè dai andiamo avanti e andiamo da steve a capire quando arriva sta roba perchè eh qui c'è un piccolo problema del furgone andremo con un altro mezzo dunque c'è stato un imprevisto qui sui campi che hanno cresciuto il budget quindi non ho potuto andare da steve vedere eh questo benedetto trattore se era arrivato eh però comunque stiamo ormai finendo manca una passatina qui e manca un po' eh sul campo 4 che stava facendo mostrina adesso non so dove si è andata a finire si si sei un minuto fa non c'era gps sul campo ehm dove sei andata ero andata dietro l'albero a mangiare una prugna eh ancora ste prugne comunque dai qua abbiamo quasi non posso dire qua il dito che eh è normale che usi la scusa della prugna non posso mica dirti che stavo col ragazzo ehm ehm fermare franza che dopo viene un colpo e dai che già è preso male di su abbiamo finito guarda qua la c'è un'imballatrice solitaria nel campo che oh è arrivato qualcuno si no ma quando vuole è tranquillo ah dai vediamo chi chi è arrivato qua oi la oi buongiorno buongiorno eh anche distanziamento qualche si 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 hai ragione ah buongiorno buongiorno mamma bacino anche eeeh allora mi hai portato il trattore qua finalmente quindi sono arrabbiato va bene sono arrabbiato asco è vero è la zona che ti stiamo aspettando e guarda dove era il mio furgone come mai era potevi chiamarmi ero sul campo stavo facendo una passata col sarchio io ho chiamato anche stanotte ma non mi hai risposto come mai eh stavo dormendo ecco vedi ora ti continuo a chiamare come mai il mio furgone è da sopra dai dai come mai quale furgone quello la rosa quello la mio quello bellissimo eh quello sgargiante che si vede fino qua come mai da sopra eeeh si vede che magari aveva freddo di stare fuori lo sai che il trattore te lo facciamo pagare 600.000 euro vero? eeeh eeeh no eeeh adesso si lo sai anzi è già partito il bonifico della tua banca no 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 fanno ancora no no ancora niente ah ti giuro ancora partito niente comunque non saprei mi dovrebbe chiedere mostrina eeeh se è stata lei fa cioè non ho non so perché chi è questa mostrina adesso? è la nuova seg... cosa mi nascondi? la nuova segretaria qui lo sai che sono gelosa lo sai no no ma è come gelosa allora steve tu hai una famiglia tu non 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 impinggiarti cioè lo sai che tra trafidenzati non bisogna mettere ma cosa? eh? chi? tra chi? tra? è il furgone è il furgone esatto il furgone il furgone secondo me era per scaricare le bottiglie d'acqua che pesavano allora Mari è stato messo lì sì ma io te l'ho prestato per venire a casa non per andare a farti gli affari tuoi hai fatto la spesa con il furgone degli altri bravo ci viene che ero di passaggio ho detto prendo due bottiglie d'acqua e le porto di sopra e dopo casomai ne lascio una in più sul furgone dopo so anch'io che magari il furgone è bello quello più bello del mondo e vai in giro a farti vedere no? era per farti un po' di pubblicità e fare un po' di pubblicità sì certo bravo poi guarda dopo lo tiriamo giù eh? ti conviene sì sì perché vabbè comunque dai fammi vedere il trattore qua dopo pensiamo a tirar giù il furgone ah ma se pensiamo prima il furgone dopo il trattore cosa dici? eh può darci devo devo vedere un attimo se ho delle forche eh per il per il per lo scorpion aspetta un attimo le do un'occhiattina ma non mi sembra no ce l'ho solo per il clammer no non so se riesco a tirarlo giù mmm però l'hai tirato su vero? eh cioè ma a tirarlo su sai eh ci ho presto ci vuole poco eh lo so però tirarlo giù ci vuole un po' più tempo sarebbe questa qua la mostierina quella che arriva che stava con il trattore sì 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 da Befana sì 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 scusi Befana chi scusi eh hai proprio la voce da Befana con mezzo al mio furgone là sopra eh lo sai che ti facciamo pagare 600 mila euro il trattore adesso ma io sapevo che le scope delle Befane volassero allora per quello che l'ho messo là in alto no perchè l'hai usato tu vero? no sono Befana quindi sarò no 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 eh Steve nel frattempo ho più fame del trattore eh sì stavo eh andiamo vai vai sali sali ah allora qua tutto spento? ah eh sì gira i chiavi oh eh allora qua beh il trattore come hai visto è un po' particolare infatti hai una vernice un po' speciale mhm e poi beh ha la gps che hai chiesto sì hai una zavorra che ti ha offerto birro ma mi sa che te la fa pagare quindi puoi vedere? ah ok ok e poi sì hai segnali di ingombro mhm beh come vedi è full optional quindi frecce, fari, luci ok girofari dopo adesso il tecnico sono 400 cavalli quindi quanti? 400 400? hm vabbè eh è una buona macchina sì sì no no fantastica ah pensavo ne avesse quel cusino a meno di 400 eh 400 però se paghi di più questo ne a meno cosa sta succedendo? eh dai no perché non vorrei sporcare il trattore nuovo non so cosa stia succedendo tra loro due sinceramente eh eh ci sono dibatti becchi in corso mhm mhm ah dai questo ne a 325 però eh ok ok c'è anche la versione c'è anche la versione da eh puoi si si vabbè eeeh vabbè insomma funziona tutto andiamo un diretto si si eh prova prova ottimo ottimo hai il fettino panoramico ah bene bene hai i radio si si è full optional full optional full optional vabbè dai eeeh dopo andremo via con il rimarchio con il trattore e ti di pronto perchè giustamente serviranno anche attrezzi consoni a questa cavalleria e quindi a breve insomma sarà bisogno di rimanere un erpice una simulatrice più grande e e ci saranno anche altri acquisti da fare e quindi insomma si 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 tieniti tieniti pronto vabbè dai eeeh andiamo a sentire giù la eeeh cosa succede l'avete risolto qua? eh? avete risolto? io l'ammazzo quella lo sai? vabbè vabbè prenda schiaffi apri aspetta che vado vado a vedere qua come siamo me si vabbè fana strela guarda ma cosa fai? fai sul tetto spazzicamini eh? pefana vede giusta la mia doccia? vabbè vabbè tira giu quel furgone che crolla il 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 pergolo il pergolo non è neanche capace ma ma guarda te sta qua ma sei pazzo usare il telescopico così se si fa male ti passano neanche l'assicurazione chi? chi si fa male? eh non so qualcuno eeeh ueh cavoli di chi si fa male beh è vero anche quello no 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 si ho gioco ho gioco no il bello è che è anche ben a carica non so mica perché vabbè dai eh come prezzi come ehm mi sa che oggi è meglio che parli con viuro perchè io non ho voci in capitolo eh si sei cento mila euro duecento mila euro duecento mila euro beh dai sei cento sei cento no improponibile improponibile allora facciamo setecento setecento no ancora di più eh ancora più improponibile eh perchè? eh perchè il prezzo giusto sarebbe male intorno ai duecento quaranta mila il prezzo giusto viene fuori quando il furgone viene giù dal pergolo va bene? eh si ma se non sono stato io a fare quel casino qua eh ho capito allora eh non però è stato un tuo un tuo operaio un quella quella sciacquetta lì quella befana eh vabbè ma eh perché ti fa la bava dietro che non sa neanche come ti chiami tra poco ecco guarda ma cosa cioè come fai a tenere delle persone così in azienda guarda cioè dai mattina eh perchè difatti dovrebbero restare dentro l'ufficio più che in azienda eh aspetta che vado quasi quasi te lo porto via il trattore perchè te lo rompe subito quella lì ah no guarda aspetta un attimo che riserviamo qua la questione no ok da provvedo anche il vecchietto che va addosso ora guarda che razza dè divo ma sei sicuro che dobbiamo cioè vabbè che se vendiamo attrezzi a questi qua ci va bene perchè li rompono subito eh ma infatti c'è una strategia sotto il mio rompio ciao vecchietto oh ciao più ciao franzi eh quale si chiede qua? ehm sono dei pati per l'incluso ehm sono dei pati per l'incluso ecco che tira sotto il vecchietto ecco mamma mia mamma mamma oh oh questi giovani spericolati ma cosa c'è lì che che ma c'ha le ruote alte quella l'accelera ma proprio non capis niente ti è salita anche nel furgone o altre tutte ma non lo so intanto secondo il motore non è mia questa scopa rosa ma la scopa è quella della Folletto per caso non perché mi sei venuto sì esatto non vedi tanti due pulsanti sopra arancioni per attendersi ma non era vero cioè ehm vabbè ehm risolviamo qua un attimo franzi vai a finire il caffè qua i signori finché risolviamo questo problema vabbè di certo vedete vai anche un po' di popcorn per essere lo spettacolo vabbè di cosa mi temi e dai mostrina dai un colpo la dai ce l'abbiamo quasi fatta ultimo colpetto ola a posto molto bene miro guarda qua mostrina ma ti avevamo detto avevo sentito un 800.000 guarda il furgone è ancora nuovo striscietino nuovo quando era venuto fuori dalla concessionaria striscietino qui appena appena ma insomma fammi vedere ok 30.000 euro in più quindi sono 280.000 per il trattore oh dai ma iiii no sono 280 no no non ci sono sconti no ti ho detto anche con le banche non posso più farti sconti è un periodo difficile esatto 2,75 2,80 cioè devo tirare su anche tutti guarda che grafiche c'è allora questa qua vai e lo metti in conto a mostrina a me metti in conto solo il trattore no no ti metti in conto a tutto a te perché è tuo operaio no no c'entro perché è stata lei fare andarci addosso quindi devi assumerti le sue responsabilità le sue no 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 non me ne frega niente no 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 qua 2,70 2,75 non di più perché 2,80 infatti infatti erano mi avevi detto 2,40 2,80 ci sto anche rimettendo beh meglio quello non è un problema mio 2,40 mi avevi detto adesso siamo 40,000 in più non può essere non può essere sì sì 2,80 ti giuro no ma allora ma dai guarda qua il tablet guarda qua il tablet questo qua è l'appuntamento per stasera eeeh 2,80 guarda un po' di professionalità 2,75 si può accettare insomma ma no no 2,80 aspetta aspetta il secondo però steve se non ricordo male aveva aveva anche rientrato un trattore se non ricordo male parco è vero è vero è vero eeeh quel trattore era bruttissimo quindi 1000 euro del trattore usato sì sì ma ci stiamo rimettendo ok marchino 2,79 dai c'è 1000 euro solo cos'è sconto di amicizia aspetta 2,40 mi avevi detto 2,40 aspetta un secondo basta urlare mamma mia quando vuole una cosa stu qua fai una volta dimmi dimmi c'era il sarchio quindi anche c'è a te coppo guarda che cacchino facciamo fare adesso adesso io facciamo fare 8 camise allora facciamo 2,78 e mezzo no allora era mi avevi detto 2,40 adesso è 2,80 non c'è troppo differenza anche perché sembra che c'era qualcosa anche che era già rimasto di qualche perché qua carte qua le carte firmate adesso vado a prenderle guarda che carte firmate guarda qua guarda questo qua ha firmato Steve ha firmato qua ma se facciamo tutto tramite mail cosa vuoi che ci siano carte? ho stampato la mail che mi hai mandato non hai la stampante perché sei venuto da me a stampare le cose non è vero sono arrivata io ho portato a casa la stampante la beffana ti ha fatto il regalo dei 7 giornali cerchiamo di chiudere perché abbiamo un altro prosegno è vero dai 2,45 via 2,45 è già più perché c'è la zavora anche allora chiudo chiudo un occhio se vuoi oggi ti porto un altro un altro massifergus intanto quella là adesso te lo distrugge no no adesso qua là la picco e allora ecco ecco come le galline come le galline gli tiri il collo sì sì esatto esatto allora ci mettiamo tanto eh ho scrivito 245.000 e adesso come mai tutti questi soldi di differenza le banche mi hai detto anche tu che hai problemi con le banche io ho messo guarda ti faccio vedere guarda qua io ho messo 245 ti avevo messo anche un euro in più per proprio scusarmi del disturbo del del furgone ah perché perché io adesso adesso valgo un euro ah grazie no è il disturbo del furgone andiamo via andiamo via andiamo via un euro un euro valgo ma via bevana vanno più io di te ma via stia fai più i casini qua ti ho fatto sudare i 12 camicie adesso fammi una doccia vieni qua che ti do quelli di ripulitrice no no quelli di ripulitrice ti do solo a testa lì di ripulitrice ti do sgrassante vieni ma mia tutti i lavori che dobbiamo fare siamo ripartiti con le trebietture ora sistemiamo questi due campi di soia e poi potremo come dire concentrarci sul mais su quindi su trinciature che dovremmo andare ad acquistare una trincia e acquistare prendere noleggio come avevamo già richiesto a Steve che ci trovasse diciamo una trincia a noleggio per avviare bene il biogas oltre comunque a caricare un po' di letame perché ne abbiamo veramente tantissimo e tra poco dovremo qualche passata e poi possiamo anche già ricominciare a spargere ringraziamo qua i nostri operai allora abbiamo Franz poi Enrico ciao ciao e Musterina che ha fatto un po' di caos oggi ciao a tutti e Marco eh bisogna che faccia un po' di caos insomma Marco Sordra e bene commentate iscrivetevi lasciate un bel like ciao a tutti e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.